Siamo ragazzi della scuola del Norfo di Cambio. L'attività che faremo oggi è WUR-AI. Avremo la possibilità di conoscere meglio noi stessi e gli altri, soprattutto in un contesto nuovo. Ragazzi, oggi lavoreremo su noi stessi. Prenderemo due cartoncini colorati che verranno sovrapposti a formare una margherita in 3D. Su ogni petalo inseriremo dei pregi, dei difetti, delle qualità, una riflessione inerente questo anno, quello che magari è un vostro desiderio, una vostra ambizione o semplicemente un saluto in qualsiasi lingua voi vogliate. Alla fine ci si confronterà su come ci vediamo noi e come invece ci vedono gli altri. Ad ogni fiore inseriremo il nostro, il vostro nome, in modo tale da renderlo originale e ovviamente identificativo. Che dirvi? Tanto entusiasmo e grinta e pronti? Partenza? Via! I'm barely getting by, got a heavy load, it's trying to break my mind. Can you tell me what you see? Maybe help me up this wall that's been blocking me? Hey, hey, getting closer everyday everyday. Hey, hey, getting closer everyday. I'm feeling like a ghost on me inside. There's an Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao a tutti, io sono Urnella e nella famiglia vengo considerata una delle più creative, infatti mi piace disegnare e lavorare in legno con gli insegnamenti di mio nonno. Nonostante tutto uno dei miei sogni sarebbe poter viaggiare il mondo con ogni suo piccolo paesino, ma soprattutto il Giappone. Per questo vi saluto con un sayonara. Sous-titrage ST' 501 Questo lavoro può essere proposto i primi giorni di scuola all'accoglienza per dare la possibilità ai ragazzi di familiarizzare con la nuova realtà scolastica. L'attività laboratoriale è finalizzata alla conoscenza dei compagni, alla socializzazione e alla creazione di uno spirito di gruppo in un clima sereno. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501